ciao francesco ti chiedo e ti ringrazio di esserti affidato a me ma perché perché niente è a caso tu sei arrivata da me come una semplicissima coach ti sei tramutata nella mia linea guida nella mia amica profonda di profonda fratellanza extraterrena nella quale siamo riprovati e perché appunto io dovevo conoscere te sei stata per me la prima mentora il primo coach che ha stravolto la mia la mia esistenza su questo pianeta perché mi ha fatto ritrovare e mi ha fatto scoprire tanti valori tante caratteristiche che nemmeno io pensavo di avere ricordo nitidamente anche sono passati oltre gli esami dal nostro primo incontro quando ti sei avvicinata a me parlandomi guardandoli dritto negli occhi in quegli occhi di ghiaccio che avevano il fuoco dentro per per stimolarmi e per dirmi che nessuno poteva dirmi quello che potevo fare o non fare mi avevi messo la prova c'ero cascato tutto dentro quel giorno e mi hai ripreso mi hai dato un insegnamento che nella vita ho ridonato e cerco di donare quotidianamente ai miei figli e a tutte le persone che mi seguono in palestra e a tutte le persone che mi seguono come persona ecco perché perché sei qui con me perché ci siano di conoscere perché sei comunque sia messaggero di scopritrice messaggera di talenti delle persone e attraverso anche me facciamo riscoprire questi talenti anche altre persone non so se mi sono spiegato non so se arriverò direttamente anche a chi ci ascolta ma tanta è la grandezza di quello che hai fatto te nella mia vita che fatico trovare parole giuste per esprimere di tutto il cuore grazie io onorata e soprattutto grata di esserti amica di cuore grazie per questa testimonianza e felice proseguimento grazie a te grazie a presto ciao a tutti